Premio Margherita d'Austria alla solidarietà. Per Susanna Lorica, criminologa, psicologa e docente, dopo svariati premi per l'impegno a sociale, l'ultimo a Madrid, internazionale per la tutela dei diritti umani a Firenze, prese ruto da noto critico d'arte il professor Massimo Pasqualone, arriva un nuovo riconoscimento. Il 15 febbraio, infatti, presso Palazzo Farnese a Ortona, si dera la cerimonia e il conferimento da parte dell'Inner Will. Tre premiati, il noto giornalista Mediaset, Remo Croci e altri illustri personaggi del panorama nazionale. La Lorica è da anni impegnata nel sociale, docente di corse di formazione per operatori di polizia e professionisti che lavorano nel settore del contrasto alla violenza in Italia e all'estero. Per la psicologa sarda, ma sul monese di adozione, nuovi progetti e traguardi Spagna e presso l'università in Polonia.